E come sempre a dare il via a questa puntata di Campania Sport con il suo editoriale c'è Umberto Chiariello. Buonasera, ben ritrovati. Due parole. Incubo napoletano. Gonzalo Higuain detto El Pipita con la maglia del Paris Saint Germain. Edinson Cavani detto El Matador con la maglia della Juventus. Incroci di mercato. Due atleti dell'87. Uno è nato il giorno di San Valentino, il 14 febbraio parliamo di Edinson Cavani. L'altro è più giovane di dieci mesi, è del dicembre dell'87. Farà 29 anni appunto ha campionato nuovo in corso. Ed è il Pipita. Oggi Le Parisiennes, quotidiano francese e parigino. Possiamo anche vedere la pagina delle Parisiennes. Titola Contatto PSG. Higuain. Eccolo qua. Questa è la pagina originale del sito delle Parisiennes, che è stato poi rimbalzato da tutti i siti online da Mediaset Sport e da tanti altri. Contatto, vedete, stabilito in alto con Higuain. Pare che ci sia un'offerta importantissima per il centrante del Napoli. Partirà poi l'assalto alla dirigenza azzurra con un'offerta al club. Ma sembrerebbe che l'offerta non sia la clausso del Cistoria e sembra già che De Laurentiis non accetta cifre che non siano quella. Ma qualora Higuain accettasse questa offerta del Paris Saint Germain, che sarà sicuramente un'offerta megagalattica, parliamo di una società che si libera di un contratto pazzesco, quello di Ibrahimović, che prende cifre di oltre 12 milioni netti a stagione. E sembrerebbe che Cavani vada via da Parigi. Per cui i due attaccanti del Paris Saint Germain liberano completamente i posti nell'attacco della squadra parigina. E il primo obiettivo diventa, appunto, visto il canale preferenziale con Napoli, da cui hanno già pescato prima il Pocio Lavezzi e poi il Matador Cavani, sembra adesso essere il Pipita Higuain. Ecco che, come avevamo preannunciato nelle settimane scorse, dicendo che nessuno sa quello che accadrà, comincia subito a salire la fibrillazione da mercato. Perché dovesse arrivare una squadra con 94 milioni sul tavolo e l'accordo con l'entourage dell'attaccante azzurro, la società napoletana non potrà opporsi. La Juventus sa già che ieri sera Morata l'ha lasciata con il gol dell'ennesima doppietta, due double consecutivi. L'anno scorso, campionato e Coppa in Precio City, da una finale di Champions League persa, tra l'altro, con un rigore non dato e con una prestazione notevole, contro il grandissimo Barcellona. E quest'anno, altro campionato, aiutini annessi, è Coppa Italia. Doppia, doppietta, non si era mai visto nella storia del calcio. Questa Juve è cannibale, cannibale, asso, piglia tutto. Se la grafica ci aiuta, abbiamo anche questo da mostrarvi. Di fronte a un Cavani bianconero e un Napoli che perde Guain, è chiaro che il gap cambia, aumenta, in una maniera esponenziale. Allora, questa sera, l'incubo napoletano di vedere il grande amato Cavani, che in tre anni ha fatto 104 gol con la maglia della Juventus e il Pipita verso lì di Francesi, francamente, fa stare male il popolo azzurro. Ma siamo solo alle prime avvisaglie di mercato, per cui, sangue freddo, è tutto da vedere, nulla è deciso. E qualora dovesse accadere, se arrivano per un giocatore di 29 anni 94 milioni, non c'è nulla da eccepire. Diciamolo chiaramente, anche se il Napoli vuole ripartire da Guain, da questa squadra, per fare un progetto importante. Ma dovesse andare via Guain, a quelle cifre, nulla si può obiettare. Ma chi diventerebbe poi il nuovo uomo guida dell'attacco azzurro, sapendo che nessuno è come Guain? Perché chi è come Guain non può venire a Napoli, cioè Suarez e Lewandowski. Proprio Morata. Quello della recompra del Real Madrid che viene immesso sul mercato, a cifre importantissime, 50 milioni di euro. E quindi il Walzer si completerebbe così, Guain all'estero, Cavani che torna in Italia con la maglia tanto vituperata e odiata dai napoletani, sportivamente parlando ovviamente, e Morata che cambia casacca e diventerebbe il nuovo bomber azzurro. Prospetto importante, 23 anni, giocatore di grandi prospettive, un giocatore che ancora non ha mostrato tutte le sue qualità, è uno di quelli che può diventare uno dei più importanti top player dei prossimi anni, anche perché Morata, per scelta dell'allenatore della nazionale spagnola, che punta a vincere l'Europeo, ha fatto terra bruciata dei vari Torres e gli altri, e ha consegnato, perfino Diego Costa, via, ha consegnato la maglia da titolare, che non c'ha nella Juventus, ha Morata, quella delle furie rosse, intrecci di mercato, prospettive. Nel frattempo però il Napoli si fionda, da par suo in questo momento, per una squadra che ha soldi e disponibilità, vista la Champions sicura, acquisita sul campo, su tre giocatori. Tonelli, già acquisito, classe 90, 26 anni compiuti, uno dei migliori difensori italiani attuali, nel panorama asfittico, dei difensori europei e italiani in particolare. In particolare, ma Tonelli è uno dei migliori difensori italiani, convocato anche per lo Stagio nazionale. La Padula, capocannoniere di B con 27 gol, record sfiorato a un gol da Immobile. Immobile poi è diventato capocannoniere di Serie A, quindi non stiamo parlando di giocatori di quarta serie o di quarto livello. La Padula è messo tardi, così come Pavoletti, ma è un giocatore che l'anno scorso a Teramo ha vinto un campionato con una marea di gol, quest'anno si è ripetuto a Pescara da grande attaccante. Non ha fatto l'A, vero. Capocannoniere di B. La Padula è nel minore di Napoli, molto vicino al Napoli. E il terzo obiettivo è internazionale. E il capitano dell'Ajax che ha bruciato lo scudetto l'ultima giornata, quel numero 10 che si chiama Klassen, 93. di classe, è un simile Amsic. Ecco che il Napoli ha già intrapreso la sua strada per rinforzare la rosa, blindando i suoi giocatori, perché le sirene sono incredibili. Iusai ha offerte pazzesche, perfino dal Bayern Monaco. Koulibaly ci sono offerte dal Chelsea, si palla da 25 milioni di euro a salire. Albiol vuole tornare a Valencia, si sta cercando di convincerlo a rimanere ancora un anno a Napoli, a costo di perdere l'indennizio e liberarlo a parametro zero l'anno prossimo. Sarà un mercato per il Napoli, proprio paradossalmente, perché ha fatto molto bene, difficilissimo. Ma io ho fiducia, come l'ho avuta l'anno scorso. E quindi invito tutti voi a stare calmi e appazientare, perché quest'anno un Napoli che affronterà una Champions e un campionato da protagonista, con Sarri in panchina, che si incontra martedì col presidente, sarà un bel vedere. Grazie, ho finito.